Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi. Oggi voglio fare un video di soli sussurri rispondendo alle domande che mi fate, diciamo, più frequentemente. Si chiama AFAQ e vuol dire Frequently Asked Questions, pronuncia imbarazzante. Ok, ho deciso di fare questo video perché trovavo fosse giunta proprio l'ora, l'ultimo video in cui rispondevo insomma alle domande che mi fate più spesso, che mi fate veramente ogni giorno. E' ormai di due anni fa e quindi ho pensato che fosse giunta l'ora di farne una versione giornata. Risponderò a domande come quanti anni hai? Di dove sei? Dove vivi? Hai ragazzo? Sei fidanzata? Hai fatto l'università? Che lavoro fai? Che lavoro fai? Queste sono le cose a cui risponderò in questo video. C'erano altre domande a cui risposto in quel video, che erano chi lì già avevi frequentato, perché molti mi chiedevano come faccio a sapere bene le lingue, cosa che non so che tipo. E poi anche perché ha le sopracciglia storte. Perché ha le sopracciglia storte? Dovete andare a vedere quel video per scoprirlo. E ve lo lascio qui. Quindi, invece, per le altre risposte, cominciamo subito. E in descrizione e nel commento in evidenza vi metterò i timestamps per ogni domanda, in modo che se qualcuno è interessato a fare una domanda, posso andarci direttamente. Però, prima di cominciare con il video, ditemi intanto se l'audio vi piace, se vi piace o ancora clicca la pulperi, così non dimenticate di cliccare, cliccare, cliccare. cliccare, 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 e mi piace se questo video vi sta piacendo. E voglio rispondere a una domanda prima, che comunque mi si fa, che comunque fa che la risposta non la sapete in troppi, ed è quando escono i miei video, quanti video a settimana escono? I miei video escono due volte a settimana, il lunedì e il venerdì alle 19.30. Ovviamente non è facile ricordarselo, quindi, per essere sempre aggiornati, seguitemi su Instagram, mi trovate come chiara.asmr, e soprattutto, quando è importante, attivate le campanelline e cliccate su tutte le notifiche. Perché YouTube fa un po' il frubbetto e quindi, una volta ne invia solo alcune, così. Quindi, se non volete perdervi i miei video, siete certi di fare queste due cose. Cominciamo, quindi, con la prima domanda, che è qua. Comunque, ho 25 anni, adesso è oggi il 31 ottobre, però uscirà domani, il primo novembre, questo video. Ho 25 anni, ma a dicembre ne compirò 26. Ora, piccolo dettaglio, siamo nel 2019, e io lo dico per chiunque vedrà questo video fra due, tre anni. Ora, novembre 2019, 25, quasi 26. Quindi, sono segno zodiacale, non è detto perché dicembre, non vuol dire segno zodiacale, in particolare. Sono un sagittario, anche se in realtà, in realtà, in realtà, sono oviuco. Ditemi, se anche voi siete degli oviuco. Ok. Allora, era per scherzare, comunque, se sono dell'oviuco, l'altro. Prossima domanda. Sono felicemente impegnata da otto anni e mezzo, quasi. Vi ho raccontato anche la storia della prima volta che ho visto il mio ragazzo. Qui, in questo video, ne ho raccontato il mio primo ragazzo di scuola, quindi siete curiosi, andate a vederlo. Da giugno, quindi quasi sono quattro mesi, quattro o cinque mesi, sono anche fidanzata. Questo cosa vuol dire che ho ricevuto la proposta di matrimonio, che abbiamo, diciamo, ufficializzato la nostra intenzione di sposarci. Anzi, in realtà, abbiamo già anche una data, che vi rivelerò in futuro, in seguito. Tra l'altro, volevo farvi ascoltare. E sono delle mollette. Ok. E per chi si fosse perso l'annuncio del matrimonio, si fosse curioso della proposta, eccetera, vi lascio il video qui, sempre. E quindi, sì, ci sposeremo l'anno prossimo. Quindi adesso sono fidanzata. E voglio anche fare questo approfondimento, perché mi ha fatto un sacco strano questa cosa. Praticamente, non so se lo sappiate, ma la parola proprio... Cioè, due fidanzate, in realtà, sono due persone che o stanno insieme da tantissimo tempo. O che, tecnicamente, la definizione, quella che ho sempre saputo io, almeno, proprio italiana, è che stanno per sposarsi, quindi che hanno intenzione di sposarsi. In realtà, se voi state insieme da due mesi, una persona così, non è il vostro fidanzato, è il vostro ragazzo. Io so che ci si può confondere, perché anche i miei nonni dicevano, Chiara, ma il fidanzatino. Quindi, ci sta che ci si confonda. Però, sapete che quando dico sono fidanzata, vuol dire che sono fidanzata da quattro mesi, vuol dire che ho ricevuto la proposta di matrimonio da quattro mesi. Non che stiamo insieme da quattro mesi. E mi ha fatto un sacco di impressione il fatto che molta gente preoccupata commentasse con Chiara, ma sono troppo pochi, pochi mesi, ma cosa fai? Ti sposi così presto? Ero lì, ok. Perché ho annunciato della proposta di matrimonio. La proposta di matrimonio è stata a giugno e io ve l'ho detta a settembre. Quindi ho detto, sono fidanzata da tre mesi. E niente, c'è stato questo disguido, però lo vado a ridere. Ok, quindi next, next, next. Allora, io sono laureata in chimica e tecnologia farmaceutica. Ho spiegato per bene di cosa trattava la mia tesi e di cosa fosse il corso. Per bene, 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 qui, nel video dedicato ai suoni della mia laurea. E mi invito a vederlo se siete interessati. Comunque, fatta in breve, è un corso di studi a ciclo unico, quindi cinque anni tutti insieme. Non è tre più due, ma cinque tutti insieme. E mi sono laureata d'aprile. Quindi sono... Mi piace dei film, io ancora ne ho laureata, quando in realtà sono laureata da un po' ormai. E sì. E mi fa molto strano fare questo video, perché se siete curiosi andate a vedere anche lo scorso video in cui risposto a queste domande. In cui dicevo appunto studio CTF e poi dicevo sto con un ragazzo. E adesso le cose sono un po' cambiate e... Non so, mi fa veramente strano. E all'epoca non vedevo l'ora di raggiungere dove sono ora, se vuoi essere onesta. Quindi sì. Lavoro. Un'altra cosa che mi viene chiesta spesso è appunto che lavoro faccio. Che lavoro faccio? Allora adesso ufficialmente, diciamo che da aprile fino ad adesso sono ufficialmente una youtuber. A parte gli scherzi, è vero, non mi piace come definizione, però per ora youtube è il mio lavoro. Quindi tecnicamente sono youtuber. Sto cominciando, devo cominciare a studiare per il concorso insegnanti, perché è il mio sogno, diciamo così. Comunque un lavoro che mi piacerebbe tantissimo è insegnare scienze che sarebbero le mie materie. Anche se ho un po' paura di essere tipo riconosciuta, è che sempre uno scherzo, non lo so. Un po' paura. Intanto aspettiamo il concorso. E quindi sì, vorrei fare l'insegnante. Perché ve l'avevo già detto in uno scorso video, trovo, ve l'avevo già accennato, diciamo così. Si stava un po' instaurando l'idea dentro di me. Instaura. Stava crescendo l'idea dentro di me, insomma dell'insegnamento. E voglio spiegarvi qui il perché di questa mia scelta. Il canale mi ha molto cambiata, mi ha cambiato la vita, avere questo canale onestamente, come ho sempre detto. E non avevo mai, 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 mai minimamente esplorato, conosciuto la mia parte creativa. E che è quella che comanda questo canale. E da quando appunto ho cominciato a lavorare di creatività, non posso immaginarmi una vita in cui non la uso. E insegnare è il giusto compromesso fra avere un lavoro che coinvoca anche il mio studio, i miei studi. E avere un lavoro relativamente creativo. Perché? Perché potete insegnare certe cose in mille modi diversi. E nella mia caglietta studente ho avuto certi insegnanti pessimi. E certi insegnanti invece che mi hanno molto toccata e molto ispirata. E che mi hanno dato un esempio incredibile. E mi hanno fatto capire come un ruolo di insegnante possa effettivamente essere di impatto nella vita delle persone. Mi piace pensare che potrò magari essere l'integrante della scelta di qualcuno universitario. Quindi essere parte integrante di una scelta di vita. Perché la scelta universitaria è comunque una scelta che un minimo ti delinea la vita che lavoro farai. Non è sempre detto come nel mio caso, però. Visto che tra l'altro trovo che non ci siano troppe troppe persone che fanno questo lavoro. Veramente appassionate di questo lavoro. Mi piacerebbe farlo perché so che riuscirei a metterci molta passione. E so che è fondamentale. E inoltre mi piacerebbe tantissimo. Appunto, sulla creatività e le mie conoscenze al di fuori dell'università per riuscire a insegnare meglio. Non lo so. E quindi questo è ciò che voglio fare. Lo so quando inizierò in realtà, però. È ciò che voglio fare. Ultima domanda, prima della buonanotte. Ti do. Non vi ho mai nascosto che sono emiliana, ma vi è sempre nascosto la città. E ve la tengo nascosta ancora. Questo perché, perché io sia chissà chi, è una questione minima di privacy. In qualche occasione mi è capitato, è salato fuori di dove sono. Però diciamo che preferisco non spiattellarlo direttamente qui. E quindi sì, sono emiliana. E comunque non vedo come sapere esattamente la città di una persona possa cambiare la vita di qualcun altro. Quindi capisco la curiosità, però questo è quello che vi dico e questo è quello che sentite perché si sente che sono emiliana. Io penso sia aggiuntare l'ora e a passare l'ora. E augurare, 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 augurare. Una buonanotte, buonanotte, buonanotte. Sognidoro, sognidoro, sognidoro. Buonanotte, 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 buonanotte. Good night, good night, good night. buonanotte sweet dreams buenas notches buenas notches tu sei svegnos buonanotte 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 vi voglio bene in mezzo in mezzo in mezzo buonanotte pasticcini con grazia al cioccolato buonanotte crispe buonanotte buonanotte